Se vuoi scoprire come tutte queste persone siano diventate tecnici completi attraverso e grazie alla programmazione PLC su IMS, lo che ti consiglio di fare cliccare ora attraverso il link qui in descrizione www.ioprogramma.info. Se ancora non sei a conoscenza dell'unico metodo che può permetterti di programmare la maggior parte di PLC che esiste a questo mondo, bene, tieniti forte perché tra questo video andremo a vedere proprio quali sono le chicche pratiche, facili e veloci e super mega applicabili fin da subito per mettere le mani in tutti i PLC che vedrai nella tua vita. Ciao e benvenuto all'interno di questo video, sono Strongo Alessandro e quello che ho detto è proprio vero, non tutti i programmatori, non tutti i tecnici presenti a questo mondo hanno questa capacità, questa possibilità di andare a lavorare su diversi PLC di diverse famiglie con diversi software perché naturalmente hanno delle limitazioni, limitazioni che naturalmente un datore di lavoro, un imprenditore, un cliente guarda molto spesso. Quello proprio del chiedere a un tecnico, in modo specifico, se è in grado di programmare in diversi linguaggi ed è in grado di risolvere diversi problemi che potrebbero incappare nei suoi progetti, progetti che naturalmente il cliente vuole risolvere, vuole portare a termine per un suo scopo finale, cioè andare a produzione. Quello che succede nella maggior parte dei tecnici è proprio questo tipo di ralentamento, non ci sono sempre i materiali a disposizione, non ci sono sempre i software a disposizione, non c'è neanche un budget economico che possa permettere a queste persone, a questi tecnici, a questi professionisti di potersi accaparrare una formazione o la strumentazione adeguata per andare a fare dei test, eseguire delle simulazioni, andare a vedere proprio le cose come possono essere e possono crearsi. Quindi il mio consiglio fin da subito, se vuoi veramente mettere le mani all'interno del mondo dell'automazione industriale, è proprio quello di iniziare a munirti di quelli che sono i diversi dispositivi, partendo subito dal PLC, che è lo strumento principale di un vero programmatore, iniziare a vedere che abbia delle performance veramente al top di gamma, iniziare a reperire tutti i software che servono per andare a programmare e iniziare a reperire tutto il materiale che può permetterti di creare veramente delle simulazioni, non solo lato virtuale, ma anche sul campo, quindi nella realtà. Anche a banco va benissimo se non hai la possibilità di eseguirlo una simulazione su quadro elettrico. Questi sono solo alcuni dei consigli che voglio darti, questo perché tieni in considerazione che da un giorno all'altro ci sarà sempre qualcuno, che sia il datore di lavoro, il tuo responsabile, un tuo cliente o un altro imprenditore, che verrà da te e ti inizierà a chiedere, saresti in grado di risolvere questo problema che si trova all'interno di questo PLC? Ma a questo punto dentro di te ti porrai la domanda, io sono in grado di programmare quel PLC? Bene, se ancora non sei in grado vuol dire che c'è da muovere un passo dopo l'altro e questi tre tips sono alla base di tutto quello che ti può servire per andare a a proseguire successivamente con una formazione adeguata e da lì iniziare a prendere le redini delle tue situazioni della tua vita lavorativa e iniziare a dire ok perfetto, io sono in grado di portare a termine quel lavoro che mi hai appena richiesto, io lo posso fare e tu saresti in grado? Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!